ragazze si ludo sveglia auri ludo sei sveglia allora ragazze oggi ho una super challenge volete veramente saperla no sì no sì no sì no ti frizzo per 24 sapete in cosa consiste questa challenge certo lo sappiamo mamma tipo noi due facciamo stop quando facciamo dei compi no voi due cara sarò io a frizzarvi per 24 ore in qualsiasi momento della giornata quando io dirò freeze voi dovrete rimanere immobili fino a quando non vi sfriccio quindi se c'è qualcosa abbiamo perso sì scusa e se vi muovete esatto avete perso e chi perderà come ben sapete cosa succederà mangiare cose disgustose esattamente chi perderà la challenge mangerà delle cose disgustosissime tanto si sa dovete perdere sempre le challenge siete pronte oppure non volete accettare questa sfida allora diamo il via alle 24 ore a partire da adesso in qualsiasi momento della giornata potrò frizzarvi ok tre due uno via ok che cosa facendo io ok l'uomo video chiamare a greta io faccio qualcos'altro va bene io allora la video chiamo perfetto il telefono allora chiamata greta gaia ok chiamiamo chiamata greta gaia ciao frizz stiamo facendo le pizza aspetta greta gaia okil stop freeze finalmente posso parlare mamma scusate no perchè mia madre è un po' pazza cioè io non lo so sembrava una moglie stiamo pagando la mozzarella per metterla sulla pizza anche noi stasera mangia una pizza mamma mia che bontà che bontà che bontà bene quando vengo a napoli mi devi preparare una bella pizza e mi raccomando vabbè no che brodo la pizza ciao a me ne esci fuori proprio tu non riesce io freeze guarda che se ti muovi perdi eh e paghi pegno quindi stai molto attenta devi essere immobile brava luto brava luto stop freeze allora ora guardo un po' di youtube allora andiamo sul nostro canale benissimo ora che ho messo youtube bevo un po' di coca cola oddio ok madonna che sete no frizz frizz no mamma togli no 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 devi rimanere immobile mamma togli immobile devi rimanere dai cacciossette immobile mamma mamma ti muovi immobile immobile mamma muovi muovi stop free ma lei normale che hai combinato ma sei tornato con super zacco di coca cola adesso pulisci cara tutto quello che hai combinato guarda io hai visto cosa hai combinato cioè si può che stai facendo aurora aurora ma che stai facendo ma sei impazzita e resterò su tutta la notte e ho capito ma è sporco pulisci tutto pulisci si devi pulire pulisci tu muoviti no vabbè sei incommentabile proprio sei tu che hai messo frizz sei proprio incommentabile che hai combinato oh 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 mamma allora che stai combinando mamma ma che combini ma che hai fatto la cascata vai subito a pulire prendi subito qualcosa per pulire che stai facendo vai subito a pulire immediatamente guarda qui guarda qui guarda cioè ma si può sembra che stai facendo la pipì scusa ora ora tu mi dici perché mi hai sopito vai subito a pulire mamma ci pensa aurora a pulire tutto fidati di me pulirò in un batter d'occhio tutto questo casino si voglio proprio vedere vediamo di non combinare altri guai sai che io sono molto brava con queste cose stai tranquilla sei proprio bravissima guarda scusami aurora una domanda ma dove è finito l'altro orecchino da qua è l'altro oddio ho perso l'orechino cioè hai perso già gli orecchini no no vabbè va bene dai subito vai a pulire è tutto quella che dovrebbe pulire sei tu no sei tu perché tu hai fatto cadere la coca cola io volevo bere solo della buonissima coca cola sì peccato che oggi stiamo facendo 24 ore freeze e peccato che io me ne ero dimenticata appunto adesso quindi vai a pulire subito subito andiamo ho io la soluzione ecco allora cosa hai preso auri ho portato una floor one s3 della tinego e cosa fai con questa cosa faccio pulirò tutto questo casino che tu hai combinato ora riempio il serbatoio d'acqua brava aspettami e arrivo subito va bene guardate che pasticcio che ha combinato guardate un po' che pasticcio che ha combinato quella lì tutta la coca cola a terra guarda qui che pasticcio eccomi mamma brava hai messo l'acqua e ora lo rimettiamo aspetta ok ok accendiamola modalità auto perfetto ora schiacciamo qua pulire con soluzione detergente no pulizia con solo acqua yes I do ok brava hai visto e non rimane neanche un po' di sforzo perché allo stesso tempo stai aspirando e lavando esatto e qui come la mettiamo e anche qui sul tavolo dobbiamo anche pulire quindi prendiamo lei e aspettiamo ok oddio brava bravissima bravissima hai visto tutta la coca lì nel serbatoio ahah l'ho vista sì ok brava quasi tanto ok andiamo di nuovo scurami di qua e come nuovo alleluia allora visto che ho terminato il mio lavoro la mettiamo in carica per l'autopulizia ok brava sei preparata sei preparata promossa io sono molto esperta di queste cose sì sei stata promossa sei in grado di pulire casa da sola ok ci sono quasi la ricarica è iniziata brava poi ragazzi bisogna schiacciare qua avviare la pulizia domani non hai paura hai visto come si pulisce da sola hai visto questa funzione ancora non l'avevo vista così risparmi il lavoro risparmi di lavarla a mano brava hai visto va bene continuiamo la nostra challenge perché non è finita qui la giornata fai bene grazie te la sei cavata brava adesso sì che ci ragioni bello vetto ok non t'azzardare a mangiare questo qui cara lo mangio io che buono e sai cosa ti dico anche questi li mangio io anzi cara anche questi mi mangio io e adesso posso anche fare stop free ci sei rimasta male questi ovetti adesso li mangio tutti io cara sì 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 Ludo facciamo un bel tiktok sì aspetta che devo mettere il tempo ok vai tre due una vai anzi no facciamo quella un effetto allora ok tre due una via freeze guarda che se anche ridi perdi avete perso no io no avete perso aurora aurora hai perso auri hai perso su adesso paghi penitenza cara dai su no 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 hai perso stop free Ludo brava sei libero no no non vale paga pegno Ludo cosa le facciamo mangiare ad auri la nutella sì no no la nutella con l'acqua cosa le facciamo mangiare il peperone con l'acqua il peperone dai sì no 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 la cuscuma con l'acqua già mangiata io ho in mente una cosa fruttola con il pane no no sì fruttola con il pane no no Ludo no sì 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 un bel fruttolo con il pane andiamolo a prendere Ludo ma ti prego qualcosa altro Ludo no 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 Ludo sei ufficialmente sì allora allora io mi bendo e voi mi date tipo no 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 devi mangiare il pane con il fruttolo come ha deciso la vincitrice non la voglio tu capisci ti facciamo mangiare il peperone mamma il peperone dove lo prendi il peperone a me il fruttolo mi fa un po' no andiamo Ludo scegli il gusto del fruttolo mi sto facendo eccolo qua a me ne esci fuori proprio tu il verde lui esce io pronto l'arancione brava Ludo uno prendi il pane andiamo per il fruttolo adesso prendiamo il pane prendi il pane Ludo prendi il pane ma come fai ma è l'acqua e qua eh vabbè è lì vai brava Ludo cosa non ci manchiamo dopo vieni 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 eh Auri è proprio inutile che fai così cara su veniti a sedere immediatamente Ludo vieni a preparare allora non mi sono mossa hanno visto tutti no no ti sei proprio mossa hai fatto pure un grande movimento Ludo in realtà ne devi prendere uno no no cara lo devi mangiare col fruttolo no no non ti alzata neanche no Ludo vai Ludi ma cosa prendi in zuppa in zuppa in zuppa a voi è ora di tutto lido no 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 Ludo ma stai fuori mangia avri mangia vai devi pagare impegno no stai fuori vada brava Ludo hai visto che bell'esempio che ti ha dato vedo che ti piace Ludo no se lo mangia lei tutti Ludo vai Luli Ludo ma stai fuori dai che perdi dai dai su muoviti no no muoviti vai 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 basta che schifo tu non hai neanche iniziato no no ripassa l'attacco Ludo se ti muovi te freeze vai vai Ludo vai vai Ludo vai Ludo vai Ludo vai Ludo vai schiacciaglielo Ludo schiacciaglielo vai Ludo vai 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 schiaccia Ludo schiaccia vai 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 dammi a me Ludo dammi a me non la bloccare amore amore prova non superata mi dispiace ma non hai mangiato abbastanza un altro pezzetto su brava brava Auri bravissima prova superata dove vai dove vai vieni qua mamma guarda che cosa ha combinato anche il frutto alla terra ha fatto cadere Ludo pulisci tu amore mamma ci penso io mamma mia che brava che sei guarda lì dove è finito lo yogurt bravissima Ludo e si così si auto pulisce andiamo mamma per rendere il pavimento più pulito e più profumato metterò del detergente nel tuo serbatoio va bene ragazzi questa challenge termina qui mai più siete state abbastanza brave no 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 io ho vinto lei ha perso eh si Ludovica è stata più brava di te dobbiamo dire no allora io non mi ero mossa stavo facendo i tiktok no no ti eri mossa sì va bene ragazzi eh dopo il fruttolo e l'orecchino perso il video finisce qui noi vi salutiamo spero che questo video vi sia piaciuto e scrivete voi giù nei commenti se mi sono mossa o meno io non mi sono mossa sì che ti sei mossa no non è vero vero Ludo iscrivetevi e abbiate la campanellina e lasciate tantissimi polligioni in su fatelo eh ciao ciao ragazzi è capito che sei mossa iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi al canale iscrivetevi e iscrivetevi e iscrivetevi al canale grazie